Buonasera, altri 1300 contagi da covid nelle ultime 24 ore, una situazione che si mantiene stabile negli ospedali dove sono ricoverate 456 persone, soltanto 10 nelle terapie intensive. Sei persone sono decedute nelle ultime 24 ore e per quanto riguarda Novara resta stabile il numero dei ricoverati, sono 24 all'ospedale maggiore, 5 invece sono i ricoverati a Borgomanero e intanto prosegue velocemente la campagna vaccinale con la somministrazione della quarta dose del vaccino agli ultra sessantenni. Voltiamo pagina e ci occupiamo della Lega del Filodoro di Novara, nei giorni scorsi in città il presidente nazionale della fondazione Rossano Bartoli. Via Cagliari 3, nuova sede territoriale della fondazione Lega del Filodoro Onlus. La fondazione ha scelto di investire sul potenziamento delle sedi e dei servizi territoriali sia nell'aspetto quantitativo aumentando cioè il numero delle attuali 10 sedi sia dal punto di vista qualitativo potenziando i servizi offerti al fine di garantire una risposta tangibile all'esplicita richiesta proveniente dalle famiglie. E proprio come è avvenuto anche per la sede di Novara aperta a febbraio 2020 ma la cui piena operatività è stata subito interrotta dall'emergenza sanitaria, oggi Novara è punto di riferimento per il Piemonte per la sordocecità e la pluriminorazione psicosensoriale. Offre attraverso il suo servizio socioeducativo un'importante attività di supporto per utenti e famiglie lavorando in sinergia con le risorse del territorio. Nel corso della cerimonia sono intervenuti Rossano Bartoli, presidente della fondazione. Oggi è una giornata diciamo speciale perché si presenta la decima sede della Lega del Filodoro in una regione diversa. Sul Novara da tempo c'era un progetto partito per sollecitazioni sia di alcune famiglie con ragazzi pluridisabili, ragazzi sordocechi e sia per la presenza sul territorio di persone sordoceche che già si erano avvicinate alla Lega del Filodoro. Si diceva dobbiamo fare qualcosa in Piemonte, nasce questa opportunità di poter disporre di questo immobile sede del Consiglio di Quartiere quando c'erano i Consigli di Quartieri, poi dismesso e attraverso una collaborazione con l'amministrazione comunale nasce appunto questa sede della Lega del Filodoro. Rappresenta la volontà della nostra fondazione di andare incontro alle famiglie, di andare incontro alle persone che vivono la condizione della sordocecità, rappresenta una opportunità di collaborazione con le varie istituzioni sia pubbliche che private del territorio per tentare di esprimere dei servizi migliori e più adeguati per chi appunto vive una condizione veramente difficile. Naturalmente l'auspicio delle persone sordoceche e delle famiglie è quello che poi da questa prima esperienza si riesca a fare qualcosa di più e sviluppare altri servizi. Notoriamente per le famiglie il problema del dopo di noi è il problema più sentito, noi siamo impegnati, cercheremo di valutare le opportunità e comunque cercheremo di fare il meglio per essere vicino a loro, ragazzi, giovani, adulti e anche anziani e sicuramente anche alle loro famiglie. La cronaca, sentono le urla di una donna provenire da un appartamento di Novara e avvisano le forze dell'ordine, interviene la polizia che arresta il compagno della donna in evidente stato di alterazione alcolica. L'uomo si era reso diverse volte protagonista di episodi simili. A raccontare i fatti è stata la stessa vittima, ancora in lacrime al momento dell'intervento della polizia. La donna, visibilmente impaurita e con evidenti segni sul corpo riconducibili a percosse, ha raccontato un passato fatto di violenze fisiche e psicologiche. Alla luce di questa situazione, viste le condotte dell'uomo e il pericolo concreto che il reato potesse comportare conseguenze più gravi, l'uomo è stato arrestato e portato in carcere a Novara. Ed ora parliamo di un importante accordo tra l'Università del Piemonte Orientale e quella della terza età. È stato siglato nelle settimane scorse un accordo di collaborazione triennale tra l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della terza età di Novara. L'accordo, siglato dal Rettore dell'Università, il Professor Giancarlo Avanzi, e dalla Presidente dell'Uni3, Paola Turchelli, porterà i due enti a collaborare nell'organizzazione di iniziative, progetti, manifestazioni e percorsi formativi comuni. In particolare l'Upo metterà a disposizione le proprie strutture e le proprie risorse umane. A partire dall'anno accademico 22-23, presso il Campus Perrone saranno individuate tre aule che saranno messe a disposizione da novembre 2022, a maggio 2023 per lo svolgimento di corsi ad alta numerosità, compatibilmente con le esigenze didattiche dell'Ateneo. Docenti e personale esperto collaboreranno attivamente all'organizzazione degli eventi di Uni3. Sono davvero lieto della sottoscrizione di questo accordo, ha dichiarato in una nota stampa il Rettore Giancarlo Avanzi, sia perché rientra in pieno nelle attività di terza missione di impegno pubblico e sociali dell'Ateneo, sia perché Upo e Uni3 condividono il desiderio di disseminazione della conoscenza, valorizzazione dell'innovazione della ricerca scientifica, formazione degli adulti e tutela del patrimonio culturale, concetti e valori che non hanno età. Dello stesso parere la presidentessa di Uni3 Paolo Turchelli, la navigazione che abbiamo ripreso forse non è ancora placida come desidereremmo e come il nostro mondo finalmente meriterebbe, ma possiamo contare sempre sulla parola, piccola scialuppa capace di traghettarci verso il riparo della sana curiosità. Un mare ancora in burrasca che vogliamo sulcare come una flotta Uni3 con Upo, consapevoli che insieme il viaggio sarà più fertile. Ed ora a Vercelli dove si valutano le offerte per la ristrutturazione dell'Exenal. C'era tempo fino a ieri sera alle ore 23 per partecipare alla gara d'appalto del valore di poco più di 2.665.000 euro per i lavori di recupero e riqualificazione edilizia dell'edificio Exenal a Vercelli, struttura del 1936 nata come dopo lavoro e sede di tante attività ludiche dei vercellesi, poi divenuto cinema attraverso il recupero dell'area teatrale per ottenere un secondo teatro per la città di Vercelli. Il progetto di recupero è dell'architetto Luca Villani che ci spiega qual è l'obiettivo di questo intervento. Per cui il progetto ovviamente in condivisione con la superintendenza è quello di riportare gli interni anche oltre che restavorare all'esterno dell'edificio come era già stato fatto sulla parte del primo lotto dove avete visto la sala delle feste, diciamo all'epoca della costruzione. Si recupererà ovviamente anche la parte tecnica scenica con il palcoscenico, la torre scenica, recuperiamo anche la fossa dell'orchestra che c'era e che avevano chiuso per appunto un uso solo come cinema della sala. Ora si vaglieranno le offerte ricevute, i lavori dovrebbero iniziare in autunno per concludersi a fine 2024. Andiamo in Valsesia e parliamo di un passatempo molto gettonato, il gioco della rana. Origini, evoluzione e istruzioni per l'uso. In Valsese c'è un gioco molto particolare tipico di questa valle ed è il gioco della rana. Ma cos'è? Come si gioca? Il gioco della rana intanto ha delle origini vecchissime, era greco, viene dalla Grecia. Si chiamava il gioco delle pentole rotte perché si lanciavano dei sassi nelle anfori di maiolica e si doveva centrare il buco ovviamente. Poi passò i romani, passò i celti, perciò in Francia. C'è stato, diciamo, epoca napoleonica, tardo 1700, un nobile, il conte della Grenouille, che Grenouille vuol dire rana, che in pratica ha formalizzato il mobile come lo vedete adesso. Questo serviva ai soldati di Napoleone quando erano a riposo dalle battaglie per passare il tempo. Ovviamente Napoleone ha portato il gioco della rana in Piemonte, capite che Vercelli è un paese di rane per le risaie ed è qui che ha avuto questo successo. Ed ora vi parliamo di una mostra della Società Fotografica Novarese. Fino all'11 settembre, l'uomo e l'ambiente nella Valle del Ticino, mostra collettiva dei soci della Società Fotografica Novarese, presso il Museo di Storia Naturale Faragiana Ferrandi in via Ferrari 13 a Novara. Il progetto fotografico intende offrire un inedito punto di vista sull'area naturale protetta del Parco del Ticino, fortemente caratterizzato dal fiume e dalla sua valle, un ecosistema di grande rilievo e bellezza nella sua unicità. Accanto alla Valle Fluviale, il paesaggio della pianura del Rigua testimone alle rapide trasformazioni che l'uomo ha praticato su questi territori, modificando profondamente il paesaggio della pianura. Brughiere, boschi, colline, laghi, la catena alpina modificano il paesaggio della pianura, contribuendo ad accrescere il fascino di forme, colori e architetture della Valle Fluviale. L'immagine fotografica vuole valorizzare un ambiente dove l'uomo e la natura possono convivere in armonia. Da tempo la Valle del Ticino rappresenta uno straordinario contenitore naturale, con una particolare biodiversità in cui la presenza umana è profondamente radicata. Gli autori della società fotografica nuvarese hanno potuto liberamente sbizzarrirsi a evidenziarne le infinite sfumature cromatiche e le tipiche atmosfere legate al naturale a vicendarsi delle stagioni, ma anche la fauna selvatica, le numerose e interessanti testimonianze di un passato anche recente a vocazione sia rurale sia industriale. La riscoperta di un turismo di nuova concezione, pienamente rispettoso dell'ambiente, l'onnipresenza del fiume con le sue acque correnti, limpide, pulite e pescose. Qualcuno ha anche sfruttato l'occasione per trasformare gli scatti in visioni oniriche, filtrate dalla lente deformante della propria inguaribile creatività. In altri casi ci si è limitati a isolare dal contesto forme accantivanti ed esteticamente gradevoli e a renderle protagoniste assolute del fotogramma. Dal curioso mosaico di tanti stili di autori diversi emerge un potente ritratto di un ambiente interessante, sempre a portata di mano, adatto ad una piacevole gita dominicale, naturalmente con mezzi eco-compatibili, ma anche volendo ad approfondimenti di tipo naturalistico, storico e culturale insensolato. Ed ora lo sport. Oro per Ilaria Sardi e Sergio Freppel della SD New Gym ai campionati italiani di bodybuilding. Sentiamo Ilaria Sardi. Gli atleti della New Gym non si fermano mai perché nonostante le vacanze avete ancora fatto incetta di tanti titoli. Non ultimo quello di luglio. Esatto, sì. Allora ai primi di luglio c'è stata la competizione che per noi atleti per chi ha partecipato era la competizione per eccellenza, ovvero il campionato italiano IFBB della Puntufit Italy. Ci sono stati due campioni italiani, quindi io, Ilaria Sardi come woman physique e Sergio Freppel nella categoria dei pesi medi. Come è andata questa giornata di gara? Come erano nello specifico le tue avversarie? Il campionato italiano è appunto il campionato per eccellenza perché praticamente raccoglie tutti i migliori d'Italia appunto della federazione Fit Italy, quindi partecipano i migliori. Quindi una gara particolarmente difficile e di alto livello, eravamo circa 500-600 atleti. Io ho gareggiato con atleti appunto di livello, le migliori appunto che si sono presentate in Italia quest'anno e appunto con mia grande soddisfazione dopo sette anni sono riuscita a diciamo prendere in mano lo scettro, il titolo di campionessa italiana 2022. Ed ora ascoltiamo Fabrizio Crepaldi, preparatore atletico della SD New Gym, che fa un bilancio della stagione in corso. Facciamo un bilancio dall'inizio dell'anno fino adesso che siamo ad agosto, come è andata la vostra attività agonistica? Allora facciamo un presupposto, preparare un atleta per una gara di bodybuilding è un lavoro lunghissimo, di conseguenza abbiamo patito come tutti il covid che ci ha tenuti chiusi e di conseguenza le preparazioni si sono fermate. È una programmazione lunghissima quindi chiaramente non abbiamo potuto portare tutti gli atleti che avevamo a disposizione. Comunque siamo riusciti a mettere in piedi due squadre fondamentalmente, diciamo una squadra B composto da esordienti che gareggia in una federazione minore e poi la squadra A che è la squadra IFBB che gareggia appunto in IFBB che è la federazione più importante e che ci ha portato e quest'anno è fantastico, dopo vent'anni a vincere due titoli italiani. Quanti atleti avete di interesse nazionale? Noi di atleti di interesse nazionale penso ne abbiamo almeno sei. Obiettivi per il futuro? Allora obiettivi per il futuro, a parte l'Arnold Classic Europe di settembre, il prossimo anno con i migliori avremo intenzione di partecipare ai campionati d'Europa e ai campionati del mondo. La pallacanestro Matteo Guardigli è uno dei nuovi innesti dell'Oleggio Magic Basket. L'Oleggio Magic Basket ha comunicato nei giorni scorsi di aver raggiunto un accordo con Matteo Guardigli alla centro classe 2003, 202 cm e 100 kg, in arrivo dalla pallacanestro Forlì, l'unica maglia che ha sempre indossato. Nato e residente nel capoluogo di provincia il 16 novembre 2003, Matteo inizia il suo percorso sportivo con il nuoto. Poi a 8 anni la mamma, ex giocatrice in Serie A a Cesena, lo convince a provare il basket e lì scocca la scintilla. Il neosqualo cresce nella società di Forlì, dal 2018-2019 è inserito nel gruppo della Serie A2 e oltre ai campionati di categoria giovanile, negli anni gioca anche in C-Gold e Silver. Nella 2017 con i compagni conquista l'ottavo posto assoluto alle finali nazionali a Perugia e nella passata stagione, in under 19 eccellenza, sfiora per un soffio la qualifica a Ragusa proprio per le finali nazionali. È tutto, grazie per essere stati con noi, buona serata con i nostri programmi.